Ciao a tutti ragazzi, io sono Forem e bentornati alla continuazione di Toy Story 3. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto Addio Hudi, che abbiamo risolto pure il problema dei volatili, come li chiamo io. E adesso facciamo Profumo di Fragole 3. Vabbè, potete pure risparmiarlo. E iniziamo. Questo disegno mostra Buzz che segue l'Ozzo per potervi parlare del nostro trasferimento nella stanza parfalla. Sì, e fin qua ci siamo. C'era qualcosa che non ci convinceva l'Ozzo, quindi Buzz ha deciso di scoprire che cosa stesse succedendo. E visto che l'Ozzo profumava di Fragole, lui ha seguito il profumo. Il profumo di frutta. Però, ha pensato a tutto lui. Per mia fortuna l'Ozzo profuma di Fragole. E infatti. Forse riesco a seguire il suo profumo. Può darsi. Allora, vediamo un po' l'informazione. L'odore di l'Ozzo ti permetterà di seguire uno. Segui la scia rosa prima che scompaia. Ok. Trova otto pezzi di puzzle, butta giù tutte e cinque le palle. Ok. Anche questi cosi. Via. Ecco una palla. Via. Sparisce. Non mi dà niente. Ah, qua c'è... Tutto a posto. Vediamo che ci sono... Eh, pensavo. Ehi. La mia visuale va... A farsi... Bene dire. Un momento che ti prendo quella palla e la stella prima che scompaiono. Qui c'è... No. Maledetto. Va bene. Poi ripassa. Una palla. Un'altra palla. Via, 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 via. E per favore non sbagliare. Ok. Siamo quasi arrivati. Preparati. Oh, ce l'hai fatta finalmente. Vedete là. Ok. Qua c'era... Una stella che ci voleva fregare. Però vorrei andare più di là. Via. Perfetto. E fin qua ci siamo. Devo mettere in moto questa gru se voglio andare avanti. Sì. Allora, distruggiamo queste. Quante? Quante me ne servono? Quante me ne servono? Cinque. No, vabbè. Eccone una sola. Sono cinque. Una batteria. E siamo tutti due. Non ci vuole niente. Stelle. Qui. Niente. Mi potrebbe servire. Già. Però attivalo. E vogliamo. E ho trovato un altro. Esatto. E ti servirà. Mo. Che c'è un altro. Che c'è un'altra. Sei un grande. Che c'è una batteria acquisita. Grandissimo. Ok, adesso possiamo scendere. Controlliamo che tutto sia preso. Vabbè. Cosa? Che bello. Scherzo. Lo spero. Se quello è chieduto vuol dire che ci sarà un motivo. Vabbè. Nessun motivo. Sto chiedendo. E' proprio scherzato. Una pallone. Via. Esci. Ehi. E si scende. Più qua ci deve essere esatto. Sempre controllare. Sempre. Anche nelle parti più strette. Stelle. Come se non ci fossero domani. Però per finire. Per finire. L'obiettivo. Bisogna per forza prenderle. Vendolo. Perfetto. Controlliamo di qua. No. Maledetto. Via. Via. Sparisci. Ah. Nessuna stella. Che grandissimo. Accidenti. Quello è forte. Devo allontanarmi dal papore volente di quei tubi. Aspetta. Prima che ti sciogli. Ok. C'è come è fatto lo so dove vorrei fin qua? Sei un ciccione dalla madonna. Ma. E usciamo di qua. Cioè entriamo. Controlliamo di qua. Niente. Per fortuna. Via una palla. E si va. Piano. Non è mica. Ok. Scendiamo di qui. Scendiamo. Una palla. Perfetto. Trofeo. Troveo. Non so più parlare. Allora. Trofeo. Palla. Completato. Ok. Sei su otto. Quindi ce ne mancano due. Andiamo di qua per vedere. Via. Le stelle. Via. Ok. Però come da vedere là. Andiamo di qua. Prendi la stella. Scendi. Come da vedere là. Stelle. Perfetto. Ma la sua chiamata. Controlliamo. No. Purtroppo. Di là. E saldiamo di là. Da questa. Disarmonica. Alla del maggio. Ok. Il bambino. E' colozzo. Con metà occhio. Metà. Metà aperto tutto. Momenti. Ma un rischio. Adesso rischio. E qua ci deve beccare per forza. Perché ogni volta. Ci mette troppo. A prendere le cose. Questo. Maledetto. Perfetto. Non guardare qui. Perfetto. E possiamo andarci con tranquillità. Via. Stelle. Non potrei dimenticare una. Perfetto. Trofeo puzzle completato. Ok. E fin qua. Ci siamo. La batteria mi sta per abbandonare. Quella della telecamera. Devo sbrigarmi. Ok. Fin qua. Devo arrivare al distributore evitando le luci del fogone. Qui c'è un piccolo. No. Aspetta. Non posso neanche muovere. Ok. Stelle completato al 100%. Però mi ha fissato. Maledetto. No. E qua. Mi iniziai questa cosa. Vabbè. Via. E possiamo volare. Il profumo di fragole di lozzo ha tirato vas dentro il distributore automatico. Ok. Deve l'ho completato. Adesso cerco di non sbagliare con i numeri altrimenti mi picchio da solo. Come un pazzo. Certo. Come un pazzo. Deve l'ho completato a 400 crediti. Vabbè. Il puzzle completato a 100 crediti. La palla a 100 crediti. E le stelle a 200 crediti come al solito. E le sfide sono sempre le stesse. Pezzi del puzzle bloccati. Ok. E un totale di 5600 crediti. E fin qua ci siamo. Ok. Io. Devo chiudere altrimenti qua la batteria mi sta per abbandonare. Le cose non sono andate come sperava base all'interno del distributore. Lo hanno catturato e portato in biblioteca. E ha scoperto che Lozzo ci aveva messo di proposito con i bambini piccoli. Bastardo. E quando Buzz si è rifiutato di cooperare. Lozzo lo ha messo in modalità demo. Ne ha significato? E' stato tremendo. Buzz si è convinto di nuovo di essere un vero space ranger. E non sapeva che noi eravamo suoi amici. Buzz ha iniziato a lavorare per Lozzo. E ci ha persino richiusi. Accusandoci di essere servitori del malvagio imperatore Zul. Già dagli occhi si nota quanto è il malvagio. Ho detto no. Nei miei giochi non mi interessano. Ok. Nella prossima puntata faremo trova il computer. Ehm. Io termino qui il video. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti.